Amici ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera, grazie agli amici di Twitter, in particolare Golovinismo, sono riuscito a estrapolare, grazie a questo grandissimo amico, anche a Out, nato per vincere Out of Contest, anche lui, sono riuscito ad estrapolare qualche pezzo dei miei, purtroppo, video che sono stati ormai rimosse. Quindi partirà una serie di Nati of Best, quindi divertiamoci, clicchiamo il link, no il link no, clicchiamo ormai il link non c'è più, clicchiamo il video, iscrivetevi al video, massicci e ingazzati, fino alla fine fa salire. Che? Se Agnelli fanno salire, fanno salire Agnelli, diciamo, secondo piano, gol, che è stato, che è stato, Agnelli mi hai fatto perdere il gol, mi hai fatto perdere, mi hai fatto perdere il gol, secondo piano. Perché involontariamente, mentre c'era una situazione, danger, veramente danger, più che a danger, a rapenza, ho chiamato involontariamente mia moglie, plus valenza. Sì, l'ho chiamato a plus valenza. Oh, una sega, chissà cosa accadrà. Quattro, 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 quattro... Quattro, 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 quattro...